Allora, Garibaldi fu un corsaro, effettivamente, non a lungo, lui in Sud America ha fatto un po' di tutto, ha fatto il commerciante di spaghetti, così come ha fatto il comandante militare, per lo più terrestre, insomma, è stato al servizio di vari governi rivoluzionari, si è acquisito benemerenza in vari paesi, ha combattuto anche per mare, non come corsaro, ma ufficialmente, perché quando passa al servizio dell'Uruguay viene nominato comandante in capo della flotta uruguaiana, che non doveva essere un granchè peraltro, ma comunque fatto sta che ancora oggi nella capitale dell'Uruguay, a Montevideo, c'è un monumento a Garibaldi, capo delle forze navali della Repubblica. Tutto questo non vuol dire fare il corsaro, però qualche anno prima c'è un documento in cui, in quel momento, lui stava servendo degli altri rivoluzionari, dei rivoluzionari brasiliani, che avevano proclamato l'indipendenza della Repubblica di Rio Grande, e Garibaldi, che appunto andava sempre in cerca di buone cause da sostenere, si butta con questi rivoluzionari, e il governo rivoluzionario della Repubblica di Rio Grande, siamo nel 1837, concede una lettera di corsa per una lancia, poco più di una barca, che peraltro si chiama Mazzini, e quindi è stata messa in mare appunto da un gruppetto di italiani, e c'è l'elenco dei 14 uomini che sono autorizzati con la lancia Mazzini a fare la guerra da corsa contro l'impero del Brasile, e uno di questi 14 è Garibaldi.